In questo video troverete due punti, una barca, un motore con qualche problema tecnico, un anteonore, due protagonisti, io e Giacomo, due antagonisti, mia sorella e mio papà. Buona visione! Ok, fermi fermi tutti. Intanto benvenuti in questo nuovo video. Scusate la mia piccola assenza, ma ho fatto lo studio nuovo e non ho avuto tempo per registrare dei video da portarvi sul canale. Preparatevi perché sicuramente nel prossimo video vi farò vedere tutto il mio nuovo studio, come è organizzato, ma soprattutto la mia nuova scrivania da editing. Torniamo a noi. Siccome sono molto organizzato, mi sono dimenticato di registrare l'intro di questo video. L'idea dunque era quella di portarvi un videoblog della giornata di sabato 19 in barca con Giacomo, solo che mi sono accorto di aver registrato troppo poco per fare un videoblog. Perciò questo sarà un video alla fill, ovvero tutte le clip tagliate, delle parti migliori, qualche musichetta, effetto strano e così via. Ok, non voglio togliervi altro tempo e iniziamo con il video. Ok, non voglio togliervi altro video. Dopo aver calato la barca, siamo saliti e abbiamo cominciato a navigare. Appena superavamo i 2000 giri motore, entrava in protezione e partiva il ciccalino, con allarme, pressione acqua bassa. Come potete vedere da questa immagine, lo Smartcraft indica la pressione a 0.0. Infine, si è sistemato da solo dopo diversi minuti. Il meccanico dice che potrebbe esserci dello sporco dentro il tubicino che va al sensore della pressione. Il problema potrebbe essere anche il sensore in sé, visto che il motore è del 2004. Comunque, se avete consigli, scrivete pure qui sotto nei commenti. La, mi ha messo col grand angolo, così ci vediamo. C'è le tettine? C'è le tettine? Guardate che belle. La moglie è scomparsa, è caduta in acqua. Eri due, ora ero solo. È ora di fare il primo tuffo con la GoPro e perderla sul fondo. Guardate che galletta. Il manico, così dicono. Sei tutto il meglio di ti, perché ti vieni da la Cina. Perché ti vieni da la Cina? Sei tutto il meglio. Che vaccino hai fatto? Il Pfizer. Il Pfizer. Che male? Mi parla del resto. Il asunto del video. Voi non potete capire. Non potete capire cosa. Vi sono dimenticato. One eternity later. Sono i campioni. Ciao, il vero. 5 minuti later. Il microfono dovrebbe essere a posto, spero, perché sennò il coppo, quelli del GoPro. E adesso con due GoPro andiamo a fare i tuffi. Lì. Sincronizzazione. 3, 2, 1. Ancora qui. 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 Quello che farei io sempre. Che slimitata. No, la GoPro d'acqua è ancora più verde, è altro che... Vado io perché sono il più piccolo. Vado io perché sono il più piccolo, è il più piccolo, è il più piccolo, è il più piccolo, è il più piccolo. Nice! Io evito. Dove là? Non possiamo farlo dall'altra parte? Mi tuffo. Kri. Mi tuffo e ti prendo. dai dai eccolo la c'è qua vabbè rido sfacciataggine se mi becca una medusa io va bene mettiamo posti i capelli no onde di nuovo e ora si inizia ora va piano perchè va fa mi vuole bene non so se si sente il rumore del motore che sta accelerando si vede anche il dito porco giuda posso volare fai delle belle smorfi e che dopo la prendo come copertina è sempre una rotura di palle per trovare la foto da me tere stiamo andando sempre più indietro dache 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 tutto quanto scommettiamo che appena arrivi a casa tu stai fermo e ti metti a fare tipo ti metti a ondeggiare ma è come anche in macchina dache 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 buonario ciao mamma coca no sto anch'io così che figata mauro canello dai dai vai dai 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 vai dai vai Sì, c'è un paio. Grazie a tutti